E' stato firmato in sala giunta tra Comune e Ispettorato del Lavoro un protocollo d'intesa che garantisce l'applicazione del regolamento COSAP. Il documento vuole favorire iniziative di contrasto al lavoro irregolare disciplinando la condivisione delle informazioni tra amministrazione cittadina e Ispettorato del Lavoro sul rilascio delle concessioni di suolo pubblico. Stiamo parlando dell'occupazione suolo, cioè della possibilità per bar, ristoranti e attività del settore enogastronomico di poter utilizzare un bene pubblico, il suolo della città che è di tutti i cittadini per un'attività privata. Noi, grazie devo dire ad un lavoro di interlocuzione con un centro sociale, l'ex OPG, abbiamo introdotto nel nostro regolamento un concetto che consideriamo particolarmente importante. Quando si lavora, le persone che lavorano devono avere un regolare contratto e deve essere impedito. Bisogna intervenire attivamente per impedire che sul suolo pubblico ci possa essere un lavoro irregolare o in nero. Il Comune ci fornirà l'elenco delle aziende che occupano il suolo pubblico attraverso le concessioni che il Comune dà a queste aziende per verificare da parte nostra se sono anche regolari dal punto di vista gius lavoristico. Quindi nei confronti del lavoratore, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista della sicurezza. Nel momento in cui l'ispettorato, dalle sue banche dati, verifica che queste aziende sono state irrogate, le sanzioni amministrative anche confermate in via giurisdizionale, il Comune potrà procedere a revocargli la concessione del suolo pubblico. Oltre a vigilare sulla correttezza contributiva e fiscale delle imprese, le parti si impegnano con un tavolo tecnico a collaborare sul tema del contrasto al lavoro nero con il coinvolgimento dell'Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, INAIL, ASL, Camera di Commercio e organizzazioni sindacali. Il contrasto al lavoro irregolare è un'operazione di sistema. Sicuramente la sottoscrizione del protocollo è un momento, è uno degli strumenti possibili. L'amministrazione comunale naturalmente metterà in campo ogni altro possibile leva che possa in qualche modo ridurre o contrastare definitivamente ogni forma di lavoro irregolare presente in città.